Consideriamo il seguente limite. Limite per n tendente ad infinito di n al cubo che moltiplica la radice quinta di 1 più 1 su n meno 1 per 1 meno il coseno di 1 su n. Vediamo a cosa tende alla successione considerata. Allora, proviamo a fare il limite. Per n tendente ad infinito, n al cubo tende a più infinito. Quello che c'è sotto la radice tende a 1, quindi la radice tende a radice di 1. 1 meno 1, 0. Tutto quello che c'è in questa parentesi tende a 0. 1 su n tende a 0, il coseno di 0 è 1. 1 meno 1, 0. Anche questo tra parentesi tende a 0. Quindi questo limite si presenta nella forma indeterminata infinito per 0. Allora, vediamo di sfruttare qualche altra conoscenza per poter calcolare questo limite. Allora, questo per esempio lo possiamo scrivere nella seguente maniera. Limite per n tendente ad infinito, n al cubo lo scriviamo come n per n quadro. ed n a moltiplicare va a dividere sotto forma di 1 diviso n. Quindi questo lo scriviamo come radice quinta di 1 più 1 su n meno 1 fratto 1 su n che moltiplica 1 meno coseno di 1 su n e n quadro lo scriviamo come 1 diviso 1 su n quadro. Allora, il nostro limite lo scriviamo come il prodotto dei limiti di queste due successioni. Come si comportano queste due successioni? Consideriamo la prima. Allora, limite per n tendente ad infinito di radice quinta di 1 più 1 su n meno 1 fratto 1 su n. Per il teorema che lega il limite delle successioni con il limite delle funzioni, questo limite è lo stesso che calcolare il limite per t tendente a 0 di radice quinta di 1 più t meno 1 fratto t. In sostanza abbiamo posto t uguale 1 su n. Cioè, noto il limite di questa funzione, noi andremo a considerare il nostro limite prendendo come successione t uguale 1 su n, che per n tendente ad infinito tende a 0 e quindi si comporterà alla stessa maniera del nostro t. Ora, questo lo possiamo anche scrivere come il limite per t tendente a 0 di 1 più t elevato a un quinto meno 1 fratto t. Quindi, se pensiamo di passare al limite, questo si presenta nella forma indeterminata 0 su 0. Però vi ricordo che fra i limiti notevoli che abbiamo visto, c'è il seguente, il limite per t tendente a 0 di 1 più t elevato ad alfa meno 1 fratto t, quando alfa è un numero positivo, questo limite vale alfa. Allora, nel nostro caso alfa è uguale a un quinto, quindi questo limite è un quinto. Allora, questa successione al tendere di n infinito tende a un quinto. Vediamo come si comporta quest'altra successione. Allora, lo stesso trucco. Che cosa facciamo? Per calcolare il limite di questa successione, che si presenta a tale limite nella forma 0 su 0, numeratore tende a 0 e denominatore tende a 0, andiamo a scomodare il limite della seguente funzione. Il limite per t tendente a 0 di 1 meno coseno di t fratto t al quadrato. In sostanza, noto il limite di questa funzione, la nostra successione si ottiene prendendo la funzione f e componendola con la successione 1 su n. Va bene? E per n tendente a infinito t uguale a 1 su n tende a 0. Quindi il limite della nostra successione è uguale al limite di questa funzione per il teorema che lega il limite delle successioni con il limite delle funzioni. Allora, per fare questo limite, per esempio, senza scomodare dell'hôpital, possiamo moltiplicare numeratore e denominatore per 1 più cosentì. Allora, questo limite come si scriverà? Il limite per t tendente a 0, 1 meno cosentì per 1 più cosentì vale 1 meno cosentì quadro di t. Ma 1 meno cosentì quadro di t non è altro che sen quadro di t diviso t quadro per 1 diviso 1 più coseno di t. Pensiamo ora di passare al limite. Sen quadro di t diviso t quadro non è altro che sen t diviso t tutto al quadrato. Per t tendente a 0 questo è il limite notevole che tende a 1. Quindi questo tende a 1 al quadrato, ovvero a 1. Se t tende a 0, il coseno tende al coseno di 0, ovvero 1. Il numeratore tende a 0, il denominatore tende a 1 più 1, cioè questa funzione tende a un mezzo. Allora, il limite del prodotto è uguale al prodotto dei limiti, questo limite vale un mezzo. Quindi abbiamo calcolato anche il limite di questa successione. Allora, per il limite assegnato possiamo affermare che il limite vale un quinto per un mezzo, ovvero un decimo. Allora, per il limite assegnato possiamo affermare che il limite vale un pezzo, ovvero 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 un pezzo. Grazie. Grazie.